Buongiorno, buon sabato mattina, benvenuti alla Rassegna Stampa in diretta, sono le 7.30 e quindi sfoglieremo come di consueto i giornali in edizione locale, però prima guardiamo santo del giorno e poi previsioni del tempo, sabato 19 dicembre la Chiesa osserva il Beato Umberto V, Papa, il sole è sorto alle 7.37, sorgerà alle 7.37 e tramonterà alle 16.33. Guardiamo le previsioni del tempo, partiamo dalle condizioni in questo momento, vedete una temperatura poco superiore ai 5 gradi, c'è ancora tanta umidità, quindi nebbie e foschie, questa è l'immagine che ci arriva dalla webcam, vediamo velocemente le previsioni che ci manda sul web la protezione civile, vedete oggi il cielo è sereno, poco nuvoloso, nessuna precipitazione, compaiono i segni della nebbia e delle foschie all'interno, anche nella giornata di domani con tre lineette, quindi ancora più intense queste manifestazioni, non ci sono precipitazioni, il cielo naturalmente sarà nuvoloso per nubi basse in dissolvimento, però nelle ore più calde della giornata, ecco il perché delle tre lineette, vediamo lunedì, ecco il fenomeno rientra un po', però insomma il quadrante e la prospettiva di tempo è questa che vedete, uguale a questi giorni, c'è una condizione permanente di tempo stabile da diverso tempo, quindi nessuna precipitazione, cielo sereno o poco nuvoloso, questo è lo schema ripetitivo, la tendenza per i prossimi giorni sarà appunto anche per la prossima settimana con alta probabilità, cielo, condizioni di tempo stabile, quindi cielo sereno o poco nuvoloso, insomma con quello che è l'evoluzione di queste ultime settimane. Entriamo nei giornali, partiamo, vi porto nelle pagine del resto del Carlino, partiamo con cronaca e una denuncia, è una denuncia che sta diventando sempre più frequente nei commissariati e nelle caserme dei carabinieri ai danni di persone anziane che vengono contattate per presunti incidenti dei figli e con conseguenti richieste di soldi, truffe, quindi ai danni appunto di queste persone. E allora guardiamo nelle pagine del resto del Carlino, a pagina 2, la truffa dell'incidente è una piaga e molti naturalmente per vergogna di essere stati truffati in questo modo, non denuncia, un ultimo caso si parla di 3.500 Euro, vedete il dirigente della squadra mobile Silio Bozzi, dice sono tantissimi, anche i tentativi di truffa, non solo quelli andati a buon fine ma proprio i tentativi, quindi attenzione, il giochino è sempre lo stesso, sua figlia o suo figlio è in arresto dopo un incidente, servono soldi per liberarlo o liberarla e naturalmente colti un po' di sorpresa, magari con qualche abilità oratoria queste persone carpiscono la buona fede di queste persone, magari sanno che c'è un figlio o una figlia fuori in giro per lavoro con la macchina, cadono in questo tranello e vengono derubati di diversi soldi o addirittura ci sono state in passato anche richieste di gioielli per fare dei cambi merci, delle cose del tutto improbabili, quindi attenzione a questo fenomeno. Ci sono anche precedenti su questi aspetti, insomma alla posta, le sim, insomma veramente le truffe ai danni degli anziani non vengono mai meno, soprattutto anche in termini di fantasia. E poi un'altra notizia che c'è nelle pagine del resto del Carlino, in primo piano le sorprese della rete, perché la rete web regala piacevoli sorprese ma alle volte amare, insomma la vigneta di Giombetti è estremamente eloquente e anche simpatica, trova sul web le foto nude della moglie e lei si difende, dice erano per una tesi di laurea, conseguente denuncia di un ex collega di studi della donna per violazione della privacy e diffamazione. e quindi insomma nella rete c'è un po' di tutto e alle volte si fa del fishing con delle sorprese poco simpatiche. Aria avvelenata, parliamo di tempo, insomma di meteorologia e di polveri sottili, con l'inverno accentua questo fenomeno, ci sono già 43 sforamenti, la gente si ammala ma le centraline latitano, a Urbino è rotta da mesi e a Fano è in tilt da giorni. Peggior monitoraggio da quando la gestione del rilevamento dell'aria è passata dalla provincia alla regione, il servizio ha perso di efficienza. Nelle pagine del resto del carlino di Fano c'è un'apertura sulla consueta conferenza stampa del venerdì con il sindaco e la giunta, annunciati diversi lavori, entro il 31 dicembre 4 milioni di strade in strade, 4 milioni di euro in asfaltature, si rifaranno anche i tetti. Annuncio del sindaco ci sono ben 38 progetti al via, in totale saranno investiti 14 milioni di euro, interventi anche a museo e biblioteca. E poi il no per il fine anno al circolo tennis, il problema è la sicurezza e quindi il no arriva dalla commissione di vigilanza e al circolo tennis era in essere un mega evento per il 31 dicembre. questa cosa ha creato anche un'altra considerazione che vedremo in altre pagine per un'altra festa di altro tono e vedremo, voi vi faccio vedere di che cosa si tratta. Un incidente sul lavoro, infortunio sul lavoro, grave, gravissimo, un senegalese di 40 anni che cade dal tetto di una barca nella quale stava lavorando in un cantiere nautico a Bellocchi, impatto violentissimo al suolo, batte la testa, non riprende mai conoscenza, è stato trasportato con l'eliambulanza alla torrette di Ancona. Ed ecco la seconda festa che vi dicevo, che ha creato un po' di, insomma, ha sollevato, cioè Montalbini ha sollevato questa considerazione, il segretario dei fratelli d'Italia, Andrea Montalbini dice, ma come è stata annullata per mancanza di festa, di sicurezza la festa al circolo tennis e poi c'è la pubblicità di un party, un trash party per il 23 e il 22 di dicembre al spazio Grizzly e nessuno dice niente, il comune tace. Quindi Montalbini porta all'attenzione questa cosa, dice due pesi, due misure. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, partiamo da Pesaro per un'iniziativa bella, interessante, che si terrà nelle prime settimane di gennaio e darà il suo avvio. Di cosa si tratta? Si tratta di lavoro con un'iniziativa che si chiama Life Restart, gli over 50 si impegnano nel ripristo degli elettrodomestici, obiettivo sono 30 occupati. Di cosa si tratta? Questa società prende in carico vecchi elettrodomestici in disuso o non più utilizzabili e li rigenera e a rigenerarli saranno gli over 50 disoccupati. Vedete qui la conferenza stampa di presentazione insieme all'assessore dei servizi sociali Sara Mengucci e le attività economiche di Antonello delle Noci e per adesso saranno sei disoccupati, over 50, che si dovranno occupare di questi elettrodomestici. Però i progetti in via Toscana non riguardano soltanto questo aspetto, ci saranno diverse cose che partiranno per una rivalutazione della vecchia area industriale di Pesaro, però questa sicuramente è un'iniziativa interessante, soprattutto per i disoccupati e per gli over 50. Nella pagina di Fano del Corriere Adriatico vi porto dentro questa notizia, frizzante festa di Capodanno, si parla dell'ultimo dell'anno. Chi saranno i protagonisti? Ci saranno gli ospiti di Amici, Zellig Lab sul palco in piazza Il 31, daranno vita a uno spettacolo con un brindisi offerto e anche un concorso fotografico. Nell'articolo di Foghetti trovate tutti i particolari di questo evento di fine anno e insomma domani anche per tre giorni tornano i mercatini di Natale, animazione in centro con la Proloco. Il caso degli stipendi mancati agli autisti delle ambulanze sotto l'albero di Natale forse, probabilmente, troveranno un bel cadeau, l'area vasta si impegna a pagare gli autisti di Solaris entro il 24, quindi due stipendi sotto l'albero che non sono pochi, insomma non fanno mai male rispetto a quelli che dovrebbero avere, meglio questi che niente. Gli angeli stimano la credità degli studenti, una bella esposizione di opere d'arte a Polloni, nella Pinacoteca sono state recuperate sei statue e linee e sono abbinate a queste esposizioni di opere d'arte. Poi caso Saipem, l'onorevole Ricciatti non è soddisfatta dell'evoluzione delle cose, gioco di specchi, il governo non risponde e poi vi segnalo una bella cosa per il piccolo Federico, si chiama Una voce per Federico, domani c'è un grande concerto a Cucurano con diversi artisti locali, ne vedete uno nella foto, Davide Grilli che partecipa appunto a questo concerto per sostenere il piccolo Federico, artisti fanesi Stefano Fucili, Armando Dolci, Andrea Battisti, Enzo Vecchiarelli, Davide Fè, Daniel Ferri, Claudio Morosi e il coro gospel, Slave Song, spero di aver citato tutti senza fare torto a nessuno, comunque insomma andate se siete amanti della buona musica ma soprattutto per sostenere il piccolo Federico e poi anche qui nella pagina dedicata all'interno del Corriere Adriatico trovate l'incidente grave all'operaio che è caduto dalla barca, anche qui al via i 38 appalti per 16 milioni e insomma l'affermazione del sindaco Seri che dice cambieremo il volto della città con tutti questi lavori e questi finanziamenti, tour de force perché c'è una scadenza il 31 e a Natale poi a pie pagine arrivano anche i clown, domani a Pergola, San Lorenzo, San Giorgio e Barchi ci saranno tante iniziative, il Natale arriva anche con i clown per allegrare i bambini, a Barchi ci sarà la corsa ormai famosissima dei Babbi Natale e anche domani e anche stamattina a Fano ci sarà una partenza molto singolare, un manipolo di ciclisti davanti alla stazione intorno alle 9.30 partirà per una pedalata insomma travestiti da Babbi Natale, molto simpatica e molto colorita e andiamo a Senigallia dove anche qui è corsa ai regali, si parte per il rush finale, raddoppia l'appuntamento per i mercatini natalizi e c'è la festa del basket in piazza Saffi e poi misure contro le alluvioni, sia alla variante, le misure contro le alluvioni sono necessarie perché insomma l'alluvione è costata lacrime e sangue all'amministrazione senegalese, tutti lo sappiamo insomma c'è stato veramente di che essere preoccupati anche per il futuro e quindi insomma lavori necessari e poi andiamo con il messaggero che punta invece con un titolo diverso, debiti mille case pignorate, la crisi non molla, difficoltà crescente nel pagare mutui e le banche avviano la procedura di pignoramento delle case, insomma questo allarme è lanciato dall'osservatorio della Dusbef, il territorio è ancora in sofferenza. Andiamo nelle pagine appunto interna dove si parla di questa cosa, di questo aspetto, di questa vicenda insomma che è anche un aspetto poco piacevole, una piega sociale, debiti sempre più case pignorate, vi dicevo nel 2015 ci sono oltre 1200 le situazioni e in questo senso la cosa sta diventando preoccupante, quindi numeri veramente elevati, crisi e mancanza di lavoro sono le cause principali. Andiamo nella pagina di Fano del messaggero, al via i lavori, non pioverà più dentro il comune, appunto si parla dei lavori che verranno avviati a breve e naturalmente mezzo milione per manutenzione anche sui palazzi pubblici. Si parla anche di Terme di Carignano che dovrebbero passare al comune di Pesero, questa è una provocazione che arriva da Telmina Pedinelli che è l'ex titolare dell'hotel Regina e anima nonché, dice sono decenni che la situazione è in stallo e paghiamo una imu pesantissima e quindi arriva la sua provocazione che dice che le Terme di Carignano a questo punto potrebbero passare a Pesero. E poi di Spala si parla di immigrazione perché Fano ospita il forum nazionale sull'immigrazione. Vi lascio con una mostra che dovete andare a vedere se siete amanti della fotografia ma anche se non lo siete, guardate qui, si chiama Food Experience, è il Pesero Photo Festival, sarà dedicato al telema dell'alimentazione, tre giorni di mostre, workshop e cibo e vedete la foto che naturalmente non rende giustizia ma che sembra un quadro ma in realtà non è un quadro, sono delle fotografie spettacolari, a farle è Renato Marcialis che viene indicato come il Caravaggio in cucina per questi tagli di luce particolari, sono delle foto spettacolari, andatele a vedere se siete amanti della fotografia o no, poco importa, il bello è sempre bello da vedere. Grazie per essere stati in nostra compagnia, la rassegna stampa torna lunedì mattina alle 7.30 e questa sera il telegiornale. Occhio alla notizia, grazie e buon fine settimana a tutti voi.